Sta per arrivare una vera e propria rivoluzione nel trasporto pubblico urbano di Lecce. Il 12 giugno infatti verrà avviato il nuovo programma di esercizio del servizio di trasporto della città di Lecce. Il nuovo programma sviluppato momentaneamente nell'ambito del chilometraggio annuo totalmente riconosciuto dalla regione Puglia ridisegna i percorsi delle linee degli autobus cittadini garantendo in maniera più efficiente il collegamento tra quartieri, frazioni e marine con il centro città, riorganizza gli orari del servizio, potenze e collegamenti con i nodi di intescambio e le aree parcheggio. Una linea portante collegherà attraversando il centro cittadino, il city terminal con la stazione ferroviaria. Due linee circolari urbane percorreranno la circonvalazione in entrambi i sensi di marcia permettendo il raccordo delle linee radiali e suburbane tra loro e con la linea portante. Inoltre otto linee radiali collegheranno i quartieri della città con il centro e i principali attrattori urbani. Otto linee di tipo suburbano collegheranno le frazioni e le marine sempre al centro della città. Una nuova mappa insomma che renderà più semplice e accessibile il servizio indicando chiaramente percorsi, fermate e capolinea senza trascurare punti di scambio e di intescambio. Percorsi orari saranno inoltre disponibili prima dell'avvio del nuovo programma di esercizio in una nuova sezione del sito istituzionale SGM.